Va bene, allora oggi proviamo insieme a risolvere l'esercizio 6, l'esercizio del laboratorio numero 6, quello sul meteo, provando a mettere a frutto le varie cose che ci siamo detti nelle lezioni precedenti, soprattutto la scorsa in cui, ad esempio sul discorso delle date, ma non solo, abbiamo ribadito che è meglio fare l'affidamento il più possibile su le cose che esistono piuttosto che cercare di farsele. Allora, non sto ovviamente a rivedere il testo dell'esercizio, perché ci avete già speso molto tempo a studiare durante il laboratorio, e passiamo direttamente alla soluzione. Quindi io sono partito, parto dallo stesso progetto che ho scaricato dal GitHub dei laboratori, e ho creato un branch soluzione che alla fine della lezione metterò online, così lo possiamo vedere. Allora, primo punto dell'esercizio è permettere all'utente di scegliere un mese dell'anno, e visualizzare il valore dell'umidità media per quel mese in ciascuna delle città presenti nel database. Quindi dovrà visualizzare Torino a fianco a un certo numero, Milano a fianco a un certo numero, Genova a fianco a un certo numero, relativamente al mese specificato. Allora, partiamo da lì, partiamo dal mese. Noi abbiamo una tendina mese che dovremo popolare con i numeri o i nomi, a nostra preferenza, dei mesi selezionati. Qui non ci dice nulla in merito a questa tendina, se indicare il numero o il nome lo lascia alla nostra scelta. In realtà la scelta la facciamo qua nel controller, dove questa choice box va parametrizzata in qualche modo. Abbiamo due possibilità. O lavoriamo con il mese come numero intero, e quindi qua ci mettiamo un integer, e quindi dentro questa tendina metteremo 12 oggetti, dall'1 al 12, che corrispondono ai 12 numeri interi. Verranno visualizzati come numeri interi, e il get value mi restituirà un valore intero. Alternativamente, ma non lo potevamo fare mercoledì in laboratorio perché non lo conoscevamo ancora, possiamo usare la classe month, che è una classe di java.time, che è, vedete a fianco di month, abbiamo due classi, no, quella è la prima, month, a fianco di una E, cioè è una E numerazione. Quindi è una classe che contiene già al suo interno i 12 valori da gennaio a dicembre, e dice che se vuoi, l'ho scritto anche in grassetto, se ti interessa la rappresentazione numerica, usa get value, che ti dà il valore da 1 a 12. Mentre Ordinal non usarlo, anche se nelle collection normalmente si potrebbe usare. E ha il vantaggio questo che il ToString mi scriverà il nome del mese, anziché il numero. Quindi, questa potrebbe essere la scelta più comoda conoscendo la libreria java.time.manf, abbiamo usato questa classe. Altrimenti si usa un integer, non cambia moltissimo, cambia solamente l'aspetto dell'interfaccia. Ovviamente non basta dire che questo contiene un oggetto di tipo month, ma bisogna raggiungere a questa lista i 12 mesi. Quindi, ad esempio, nel metodo initialize, dobbiamo aggiungere al box, si chiamava mese, add, ad esempio, no, no, add event filter, add, scusate, get items, che è la lista che contiene i mesi, add il mese, ad esempio gennaio. e così via tutti gli altri, li possiamo aggiungere per nome, ok, gennaio, febbraio e così via. Oppure, se vogliamo aggiungerli, magari più comodo, in un loop, dovremmo avere, se non sbaglio, un metodo che si chiama ov, ov, e che riceve come parametro il numero intero del mese. Quindi, volendo potrei fare l'add 12 volte, ma mi sento un po' stupido a farlo, preferisco fare un ciclo da 1 a 12, in cui aggiungo l'oggetto month corrispondente a quel mese. Ricordiamoci, ov è una sorta di costruttore della classe Java Time, che mi dà un oggetto a partire dalle sue informazioni componenti, in questo caso a partire dal numero del mese. Ok? Quindi in realtà, anziché fare queste cose, farò un ciclo con il mese che va da 1 a 12 e aggiungerò al box al getItems ad il mese costruito passandogli questo valore. Quindi queste due le commentiamo. C'errebbero possibilità, se fossimo in vena, di scrivere tanto. Quindi, con questo dovremmo, verifichiamolo subito, avere la tendina in cui compaiono i nomi dei mesi. LaunchingMain ce la farà. Esatto, e compaiono in questo modo. La versione inglese, tutta in maiuscolo, che è il nome dell'elemento delle numerazioni. Se volessimo qualcosa di più sofisticato, ci faremo la nostra classe, che restituisce il nome in italiano, ma ci va benissimo così. Quando seleziono un oggetto, sto selezionando un oggetto di tipo month, di cui poi, se mi interessa il valore numerico, farò un getValue su quell'oggetto. Ok, adesso devo decidere cosa succede quando clicco su umidità. Allora, innanzitutto dovrò dire al programma quali sono le città che ci sono in questo database. Allora, potrei codificarle Torino, Milano, Genova nel codice, ma la cosa più semplice, più diretta, più pulita, forse anche, è quella di chiedere il database. Quindi noi dobbiamo lavorare da questo punto in avanti, in parallelo sul model e sul DAO. Ok? In cui ci sono dei metodi, allora come sempre, i metodi che ci sono qua nei progetti che vi diamo, se vi piacciono, se vi servono, usateli, se vi servono modificati, modificateli, se non vi servono, li cancellate o li ignorate, non è detto che debbano essere usati, sono metodi che tipicamente abbiamo scritto per cominciare a testare se il progetto funzionava. Quindi il mio modello dovrà avere, qui ci sono delle costanti che potremmo usare, sicuramente abbiamo detto che vogliamo avere un elenco delle città, delle tre città che ci sono nel database. Quindi questo lo potremmo fare con una lista, private, scusate, lista delle città, ricordiamoci che città è un semplice bin che contiene, in questo caso, il nome, eventualmente l'elenco di rilevamenti se ci serve, se ci dovesse servire. Per ora, per il momento, ci serve il nome. Quindi una lista di città, vorrei chiamarlo città al plurale, ma non esiste in italiano la parola di città al plurale, le città vi piace, perché la lista che contiene le città, città con la S plurale, mi sembrava proprio brutto. Le città ovviamente viene importato da BIM. Quindi, al momento del costruttore, quando costruisco il modello, il modello come prima cosa si chiederà quali sono le città presenti nel database, e questo ovviamente lo chiederà il DAO. Quindi al costruttore dovrò chiedere, dovrò costruire un meteo DAO. Quello fai? DAO. A cui chiederò di popolare le città con get all città, ad esempio. un metodo che mi distribuisca una lista di tre città, semplicemente con i nomi. Non ancora, i rilevamenti lasciamo listare per il momento. Ok? E quindi il DAO in questo momento non ha questo metodo, lo creiamo, get all città, senza parametri, a cui dovrò semplicemente chiedere l'elenco distinct delle, dunque la colonna del database si chiama località, giusto? località, from, la tabella si chiama situazione. E poi per fare i fini order by località, così mi viene fuori in ordine alfabetico. Ok? Quindi questa query che per scrupolo vado a testare anche direttamente sul database, mi istituisce queste tre città. e quindi le metto in una lista. Quindi qui c'è il solito lavoro di JDBC connection uguale dbconnect punto get connection get connection poi da lunedì prossimo impareremo un modo migliore di ottenere connessioni che evita tutti i problemi che abbiamo visto. ma per il momento continuiamo a creare una connessione per ogni query e ricordarci di chiuderla sempre. E dentro la connection crea un prepare statement uguale connection punto prepare statement che prende questo SQL e infine eseguo questa query la città non era importato qui devo mettere il try catch lo faccio intorno a tutto il blocco come sempre così ok e quindi prima del connection punto close popolerò il risultato quindi posso avere una lista città result uguale new array list e man mano che trovo un elemento creerò un nuovo oggetto quindi result punto scusate result punto add new città in cui il costruttore qui tra i vari costruttori della classicità ce n'è una che riceve semplicemente il nome va bene allora posso prendere come res punto get string del nome della colonna che è del nome della colonna che è località e alla fine di tutto restituisco result che ho trovato quindi nulla di spettacolare ho restituito un elenco di città questo metodo verrà chiamato dal model non appena il model viene costruito vediamo se nel man c'era già la chiamata al model non c'era ancora quindi andrà chiamato qua e poi controller metodo classico set model che nel controller imposta il riferimento al modello mettiamolo in fondo ok public void allora abbiamo tutta l'infrastruttura controller il modello il controller nel costruttore chiama questo metodo get all città questo metodo get all città restituisce una stringa stringa che viene memorizzata scusate una lista che viene memorizzata qua dimmi ottima osservazione perché qua aggiunge solamente neanche il primo risultato perché non ho while result set punto next devo iterare tre risultati grazie mille così allora alla creazione del modello quindi abbiamo queste tre città e quindi possiamo cominciare a pensare al punto 1 che mi dice scegli il mese e visori di utilità media in ciascuna delle città allora questa frase ciascuna delle città adesso ha un significato per noi perché abbiamo una città noi potremmo pensare di creare un metodo del modello a uso e consumo del controller ovviamente che mi dia adesso questo metodo che restituisce una stringa a me non piace per nulla quindi ragioniamoci adesso è stato messo per così per ragionare sul nome io ho due modi di provare a pensare come passare le umidità medie dal non come calcolarle come restituirle cioè come il modello e il controller possono scambiarsi questo dato caso 1 più semplice crea un metodo get.umidità.media virgola città e mi restituisce un double fine questo metodo lo chiamerò tre volte da un'unità media del mese tot di Torino quella di Genova e quella di Milano l'altro ok no? a questo punto il model mi restituisce un'unità media di un dato di una città per quel mese e mentre il controller dovrà chiamare questo metodo tre volte l'altro modo è far sì che il model restituisca una lista di cose che contengono la città più media adesso lo scrivo così perché però non abbiamo ancora una classe più temperatura media umidità media in cui a questo punto sarà sempre un get umidità media a cui passo solamente il mese allora cosa farà il modello a questo punto farà lui l'acquire sulle tre città e però mi deve restituire una struttura dati che contenga in questa città c'è questa temperatura in questa città c'è quattra temperatura quindi una lista di oggettini che contengono al loro interno la città e l'umidità giusto qui avevamo una classe che si chiamava simple city ma che non va bene perché c'è dentro un costo che non ci serve quindi dovremmo creare un oggetto nuovo che contenga dentro una città e un'umidità se vogliamo lo possiamo costruire molto banale semplicemente città umidità che contiene dentro semplicemente un campo città e un private double umidità e devo restituire una lista di questi oggetti registriamo piuttosto creiamo un oggetto in più ma registriamo dal dover restituire per passarsi avanti e dietro delle stringhe che sono poi di difficile gestione quindi se ce l'avete passimo basterebbe creare un costruttore e il get reset di questa cosa cosa ho sbagliato qui il cursore è un po' strodogliato quindi in questo metodo ipotetico del modello restituiremo una lista di oggetti che sono città umidità quale delle due facciamo dipende da noi la più semplice potrebbe essere la prima via data la città data il mese dammi il numero che rappresenta l'unità media e come faccio a ottenerlo allora ovviamente questa informazione ce l'ha il database a cui posso chiedere tutte le misurazioni in cui la città diamo capo in cui la località è per esempio Torino e il mese è marzo aprile siamo ad aprile adesso adesso peccato che nella tabella una colonna mese non ci sia giusto? ma c'è una colonna data quindi dobbiamo chiedere al database tutte le misurazioni di tutte le date in cui il mese di quella data sia quello che ci interessa allora abbiamo visto ieri con un flash che in MySQL esiste la funzione month di data che prende la colonna data che è questa e mi restituisce il valore numerico del mese quindi in questo caso io avrò tutte e solo le misurazioni di Torino nel mese di aprile dell'anno 2013 perché è l'unico trattato da questo database posso restituire tutte queste misurazioni e poi chiedere al modello di sommarle e fare la media ma in realtà tutti questi dati non mi servono li ho messo asterisco solo per controllare che le date della città fossero giuste che la mia condizione web fosse giusta in realtà l'unico dato che mi serve è l'umidità quindi basterebbe avere questa serie di numeri e farne la media ma la media perché devo farla io in Java quando il database è capacissimo a farla e questo è il mio risultato quindi basta impostare una query fatta nel modo giusto per farmi dare dal database il dato già più vicino possibile a quello che mi serve senza dover impazzire a fare liste di risultati eccetera è una query parametrica in cui i due parametri sono la città e il mese allora se è così vuol dire che sto ipotizzando che il DAO mi metta a disposizione un metodo public get umidità media a cui passo la città e il mese a questo punto mese perché devo passarglielo come intero quando in realtà posso usare l'oggetto month che è semanticamente più corretto e anche più comodo perché è esattamente ciò che mi arriva dalla tendina e anche il modello stesso eh chi pensavo che il mese fosse un int in realtà può essere benissimo un month java.time.mouse se abbiamo oggetti che rappresentano un dato usiamo gli oggetti ovunque possibile mese virgola città il DAO a città virgola mese fatemelo invertire se no e quindi questo cosa farà? beh farà questa query questa query qua copia incolla impazzisci a mettere a posto di a capo di spazi e tutto dove al posto di Torino ovviamente ci mette un punto interrogativo e al posto del numero del mese ovviamente ci mette un punto interrogativo ricordiamo sempre gli spazi finali altrimenti ci becchiamo gli errori di sintassi e sequelle questa è la nostra query che funziona perché l'abbiamo appena provata e quindi non rimane che eseguirla allora copiamo questo perché siamo pigri dove dobbiamo un attimo modificarlo ovviamente perché adesso una volta che ho preparato lo statement prima di eseguirlo dovrò impostare i parametri questa volta è una query veramente parametrica in cui il primo parametro è il nome della località quindi in questo statement devo settare il primo parametro come stringa pari a città punto get nome e il secondo parametro che è un intero in cui prenderò il mese get value mese tra 1 e 12 ok? occhio che se aveste usato o chi di voi ha usato l'oggetto calendar qua doveva fare mese più 1 get month di calendar perché il calendar restituiva i mesi tra 0 e 11 non tra 1 e 12 java time è più furbo e restituisce in modo standard scusate parametro 2 virgola mese punto get value dai virgola quindi ho iniettato dentro la query il nome della città e il numero del mese perché al database non posso passare un oggetto devo passare un valore un numero eseguo la query e mi aspetto ovviamente che ci sia un risultato solo per questa query una riga sola quindi basta che io chiami posizioni il cursore vabbè next lo posiziona sulla prima riga e ottengo il valore umidità come result punto get double ah la colonna come si chiamava avg di umidità non mi piace diamogli un nome chiamiamola u così è più facile da pescare ok rinomino la colonna es u quando ho delle colonne calcolate conviene sempre dargli un nome facile da usare quindi lo metto anche qua e quindi la mia colonna si chiama u return u questa graffa non c'è più e se no cos'è che mi dice una parentesi di troppo se no ritorno null cioè non l'ho trovato ok quindi questo metodo del DAO lo posso chiamare dal model aspetta qui ci arrabbia ancora di qualcosa il DAO connessione punto close ah si scusate devo mettere return dopo il connessione punto close quindi il modello può usare questo metodo del DAO semplicemente come wrapper non ha bisogno di far nulla di particolare perché il modello non ha bisogno di ricordarseli questi dati li chiede e gli passa controller adesso il lavoro lo fa il controller per poterlo fare il controller ha bisogno ovviamente di sapere quali sono le città e quindi dobbiamo aggiungere almeno un getter per le città in modo che il controller possa sapere quali sono le città a questo punto abbiamo tutto per implementare il primo punto cioè nel metodo do calcolo umidità il controller estrarrà qual è il mese selezionato dall'utente andando semplicemente a verificare cosa è stato selezionato nella box mese se questo è null perché può darsi che l'utente non abbia selezionato nulla se ha selezionato qualcosa è di sicuro uno degli oggetti che ci ho messo dentro io se non ha selezionato nulla allora non posso procedere se il mese è diverso da null allora itererò sulle tre città per ciascuna città c tra quelle che il model conosce e qui devo importare l'oggetto città calcolo il double umidità chiedendolo al modello a cui passo il mese m l'oggetto month e la città c e semplicemente devo stampare in un'area di testo un messaggio che leggerà qualcosa come città per cento s due punti umidità per cento f a capo a cui passo il nome della città e il valore dell'umidità se vogliamo possiamo anche essere educati e scrivere dati del mese e mettiamo il mese m punto get value no get string to string così stampiamo il nome del mese quindi proviamo il tutto mese scegliamo aprile clicco umidità dati del mese april e i valori lo riclicco mira ovviamente gli stessi se metto luglio mi darà dei valori diversi ok e questo è il primo punto chiudo secondo punto se non vi piace m.to string potete usare un date formatter e farvelo stampare in italiano eccetera eccetera ma non era questo il focus dell'esercizio ovviamente secondo punto è quello ricorsivo allora era quello ricorsivo in cui dovevo scegliere per i primi 15 giorni del mese in quale città si doveva recare giorno per giorno questo benedetto signore ok tenno conto di una serie di regole regole che erano di due tipi alcuni erano vincoli cioè non posso stare più di sei giorni nella stessa città non posso stare meno di tre giorni nella stessa città non posso non toccare nessuna città cioè non può essere nessuna città che non abbia mai visitato e così via questi sono vincoli che determinano quali sono le mosse lecite ad ogni passaggio cioè se io sono già stato l'1 il 2 il 3 il 4 a Milano il 5 dove posso stare dove voglio Milano Torino Genova se invece sono stato l'1 il 2 il 3 Milano e il 4 Torino il 5 dove posso stare solo Torino non posso cambiare da Torino a un'altra città perché non sono stato almeno tre giorni nella stessa città quindi queste regole questi vincoli sono vincoli hard rigidi mi determinano giorno per giorno quali sono le mosse possibili tenendo conto delle mosse dei giorni precedenti chiamiamo pure mossa il fatto che il tizio vada nella città poi c'è il discorso del costo a seconda della mossa che faccio questa ha un costo diverso un costo che dipende dall'umidità nella città oppure che dipende dal fatto che mi debba spostare oppure no questo costo non mi permette di escludere immediatamente a priori una mossa piuttosto che un'altra cioè non è che se a Genova c'è l'umidità di 80 e a Torino c'è di 40 allora non posso andare a Genova magari sì perché il giorno dopo il giorno dopo ancora tre giorni dopo conviene rimanere a Genova quindi converebbe magari andarci un giorno prima non lo posso sapere cioè questi ragionamenti sul costo li potrò scoprire solamente una volta che avrò composto tutte le quindicina di giorni e mi chiedo ok se ho fatto questa scelta in questi 15 giorni quant'è il costo? questi valori di costo non mi cambiano lo spazio di ricerca cioè l'insieme di tutte le combinazioni che devo generare fanno sì che alcune scelte siano preferibili ad altre ma se una è migliore dell'altra lo saprò solo quando sarò arrivato alla fine perché se voi mi dite eh ma sì però guarda che ti conviene rimanere nella stessa città io ti so trovare un controesempio in cui questo non è vero magari non con questi dati ma se le varie gli sbalzi gli sbalzi di umidità fossero molto più forti le differenze fossero molto più forti delle varie città allora il costo di 100 potrebbe essere per spostarsi potrebbe essere compensato da tre giorni in cui la differenza di umidità è 80 8, 16, 24 mi ripaga due spostamenti allora questi ragionamenti qui cerchiamo di non farli nel costruire le soluzioni separiamo i due momenti costruiamo le soluzioni e quando le abbiamo trovate le valutiamo quali sono le soluzioni lecite valide e tra le soluzioni valide cioè tutte le combinazioni che rispettano le regole troviamo qual è quella ottima quella il cui costo è migliore tutto questo argomento per dire che del costo e dell'ottimo del costo del costo ottimo mi devo preoccuparmene solamente nel caso terminale della ricorsione quando ho effettivamente una soluzione completa allora lì la vado a vedere durante la discesa ricorsiva non mi interessa mi interessano le altre regole allora questa discesa ricorsiva com'è fatta? allora come sempre noi proviamo a scrivere qualche nota mettiamola qua quindi abbiamo detto impostazione della ricorsione qual è la mia soluzione? cos'è la soluzione che sto cercando? è una sequenza di 15 città cioè la soluzione è ad esempio Torino Milano Milano Torino Torino puntini e puntini eccetera per 15 elementi questa è una mia soluzione qui ho chiamato sequenza ma in Java lo potrei anche chiamare lista al momento mi interessa sapere in quale città sono stato questa è la mia soluzione dove deve andare? lì poi voi mi dite ma mi interessa anche sapere che umidità c'era in quel giorno in quella città va bene ci pensiamo tra un attimo non fa parte della soluzione fa parte dell'informazione che mi servono per calcolare la bontà della soluzione stessa ok? quindi una soluzione parziale ah no una soluzione è una sequenza di 15 città purché rispetti le regole sulla permanenza minima e massima e basta queste sono lezioni lecite chiaramente una soluzione parziale è una sequenza di minore o uguale 15 città la soluzione completa è la sequenza completa di 15 elementi e la costruisco così ad ogni livello della ricorsione corrisponde un giorno del calendario giorno 1 giorno 2 giorno 3 a livello 1 sceglierò in quale città andare nel primo giorno questo lo dobbiamo ancora scrivere prima magari soluzione sequenza di 15 città in cui ciascun elemento o gli elementi della lista rappresentano la città visitata in ciascuno dei primi 15 giorni del mese ok quindi abbiamo una soluzione parziale che è la sequenza di un certo numero di città che appare a livello livello 0 o 0 città livello 1 pur che questo livello sia minore può anche essere minore di 15 non sono ancora arrivato al fondo e il livello mi rappresenta il giorno a cui sono arrivato la condizione terminale non è altro che il livello uguale a 15 cosa devo fare quando ho trovato una soluzione completa allora innanzitutto devo calcolare il costo relativo a questa soluzione sommando le umidità e più 100 per gli spostamenti quindi la somma dell'umidità più 100 per il numero di spostamenti confronta questo costo con quello della soluzione migliore trovata finora migliore trovata finora e se è minore salva questa soluzione come la migliore e poi in ogni caso continuo la ricerca perché se ne ho trovata una non è detto che più avanti non ne troverò di migliore quindi devo andare avanti non devo interrompere la ricerca come facciamo a volte questo è ciò che faccio nel caso terminale solo qua entra in gioco il calcolo del costo mentre invece prima di arrivare il calcolo terminale il problema che mi devo porre è come generare le nuove soluzioni quindi quando sono una soluzione parziale come faccio a generare le soluzioni ancora parziali che abbiano un elemento in più e provo ad aggiungere tutte le città lo scrivo così perché è il nome della variabile del model purché rispettino i vincoli che sono che la città che sto aggiungendo non sia la settima consecutiva ok? se io voglio aggiungere Torino lo posso fare purché le sei posizioni precedenti non fossero tutte Torino perché è un numero massimo di giorni in cui posso stare in una certa città se quella che sto per fare è la settima non la posso fare non è una mossa valida primo vincolo secondo vincolo è che se sto cambiando città in quella precedente devo esserci rimasti devo esserci rimasto tre giorni vabbè almeno quindi se io ieri ero a Torino e oggi scelgo Torino va bene purché rispetti il primo vincolo sui sei ma se ieri ero a Torino e oggi voglio andare a Milano devo verificare che l'altro ieri e tre giorni fa fossi ancora a Torino solo così se ieri l'altro ieri tre giorni fa sono stato a Torino allora posso scegliere di andare a Milano o andare a Genova perché ho rispettato la permanenza minima a Torino io non posso ragionare sul futuro di dove andrò domani posso chiedermi che se la mossa che sto facendo oggi viola la sequenza viola le regole e questa violazione la vado a vedere sulle mosse passate dimmi c'è una domanda no forse no hai ragione anche non consecutive scusate settima complessiva grazie tre giorni consecutivi invece qua sì se rispetto a queste due regole posso provare a raggiungere la città in realtà esisterebbe anche una terzo vincolo che tutte le città devono essere visitate almeno una volta però questo vincolo viene fuori in automatico perché visto che posso stare al massimo sei giorni in ciascuna città potrò fare sei in una sei nell'altra ho fatto dodici giorni e gli altri tre giorni per forza devo stare nella terza città quindi se rispetto il vincolo dei sei giorni automaticamente rispetto anche la prima regola altrimenti sarebbe un vincolo che metterai solamente sul livello 15 dicendo se questa è proprio l'ultima città che devi mettere e per caso hai sempre solo messo due devi per forza mettere la terza prima non ha senso forzarlo come vincolo però in questo caso ho scelto i numeri in modo che venisse ok? non ci dovessimo preoccupare anche di questo questo è il ragionamento sulla ricorsione non ci rimane che tradurre un codice con il nostro solito schema quindi del caso non a caso il caso terminale l'ho messo in fondo cominciamo a fare il resto allora resto nel modello possiamo allora immaginiamo prima il metodo pubblico che può servire a far partire il tutto cosa restituisce questo? la lista di città perché il controller non è che deve stampare altro si trovi la sequenza delle città da visitare tale da minimizzare bla 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 non ci dice stampami anche il valore dell'umidità o altre cose qual è la sequenza migliore? poi se la vogliamo stampare ci viene ma ciò che devo ritornare è la lista della città calcola sequenza della città passandogli il mese ovviamente non winter ma sempre month mese questo è ciò che farà il metodo che il model offre al controller quindi scelto il mese l'utente clicca su come si chiamava quel bottone calcola la sequenza ottimale della città e il controller chiamerà il metodo calcola sequenza che restituisce una lista che il controller stamperà adesso questo calcola sequenza usa una funzione ricorsiva interna chiamiamola cerca perché non abbiamo fantasia questa funzione cosa deve ricevere la soluzione parziale il livello altre informazioni di appoggio che le servono altre informazioni che non siano già nel model a cui non possa già accedere essendo già memorizzata nel model quindi di sicuro avrà una lista di città che è la soluzione parziale avrà il livello che in realtà coincide con la lunghezza di questa lista ma se lo mettiamo in spigito è più facile poi vediamo se ci servono altri parametri ma questi due ci servono essere per forza e lo schema della ricorsione cosa dice se sono nel caso terminale livello uguale questo numero giorni totali che sappiamo che vale 15 allora sono nel caso terminale me ne occupo dopo ok poi qui non c'è un else non c'è un return in ogni caso anche se fossi in un caso terminale vado avanti con la ricorsione no posso mettere un else perché tanto non mi serve altrimenti non sono nel caso terminale quindi devo andare avanti andare avanti cosa? provando nuove soluzioni le soluzioni da provare sono le città presenti quindi qui sono nel caso intermedio proverò le varie città provo una alla volta le varie città se l'aggiunta di questa città non viola le regole quindi se è un'aggiunta valida aggiungere una città alla soluzione parziale che ho già solo se è valida questa aggiunta allora la provo quindi le città che potenzialmente posso provare sono tutte e tre però non è detto che ad ogni mossa siano tutte valide allora c'è una funzioncina che mi dirà questa è valida questa no e questa funzioncina è quella che si sbatterà a contare i sei i tre il giorno ieri l'altro ieri dove ero eccetera eccetera e vabbè antipatica la scriveremo ma è almeno chiaro cosa deve fare se l'aggiunta di questa città alla soluzione parziale mi dà una soluzione ancora valida effettivamente posso provare ad aggiungerla e quindi farò che cosa? farò parziale punto add di prova la città di prova la ricorsione con la nuova soluzione parziale e con il livello incrementato e poi piccolo backtrack toglie l'ultimo elemento che ho appena messo uguale a 100 altre procedure ricorsive che è ben già scritto la specificità dov'è? è tutta in quella funzione aggiunta valida allora implementiamola non ci scampa nessuno adesso metodo privato booleano aggiunta valida in cui devo verificare le due condizioni quindi verifica giorni massimi verifica giorni minimi allora vedi che giorni massimi cosa devo fare? contare quante volte nella soluzione parziale compariva già la città prova e vabbè foro si può fare poi in modi più furbi tenendo conto incrementalmente di quante volte una città è stata messa ma non voglio fare cose furbe per adesso voglio fare che funzionino poi c'è sempre tempo per migliorare foro città precedente le varie città precedenti che erano nella lista parziale se precedente punto equals prova conta più più se andiamo a vedere nella soluzione parziale che ho finora quante volte compariva già la città che sto per aggiungere se compariva già 6 volte no se compariva 5 o meno volte sì quindi se per caso conta forse già uguale o maggiore ma maggiore non potrà mai diventare perché lo sto costruendo un pezzo per volta ma proteggiamoci dai al max com'è che si chiamava quella cosa là numero giorni città max che è 6 se fosse già uguale a 6 caro mio questa prova questa città in cui stai provando ad andare non è valida se invece non è uguale a 6 o addirittura maggiore ma non potrà mai diventare maggiore perché prima di aggiungere non ho conto e quindi sarà un numero compreso da 0 e 5 va bene la posso provare ad aggiungere scopolo andiamo a vedere l'equals come è implementato è implementato in cui confronta solamente il nome ok che ci va bene ma visto che la classicità va dentro anche potenzialmente risultati e rilevamenti prima di andare a chiamare un equals che poi vada a confrontare altre cose e verifichiamo va bene solamente il nome va bene poi i giorni minimi allora i giorni minimi hanno a che fare col fatto che io posso cambiare città solamente a certe condizioni se qui si incasina perché all'inizio del mese ovviamente non posso pretendere di avere tre giorni precedenti finché non sono il giorno 4 quindi al giorno 1 posso fare ciò che voglio cioè se parziale è vuoto posso fare ciò che voglio se parziale è un elemento o parziale è due elementi allora prova deve essere uguale a quello del giorno prima se parziale è più di due elementi allora devo andare a vedere ok? allora vediamo i vari casi if parziale punto size è 0 va bene qualunque sia prova va bene viceversa se parziale punto size uguale 1 o parziale punto size uguale scusate parte la chiudata onda uguale 2 quindi se questa è la terza città allora deve essere uguale alle prime due uguale alla seconda per capirci quindi deve essere parziale punto get di 1 equals prova cioè ti dico true se la seconda città è uguale a quella che sto provando ti dico false se la seconda città è diversa da quella che sto provando sbagliato sbagliato perché se 6 è uguale a 1 questo mi dà errore meno 1 se l'ultima città che ho visto che potrebbe essere la 0 nel caso in cui la lista contenga un elemento o che sia la 1 nel caso in cui la lista contenga due elementi la prova deve essere uguale all'ultima città vista se quell'equals mi ritorna true allora va bene è valida se quell'equals mi ritorna false allora non è valida e quindi me lo sono tolto e quindi sono nel caso generale in cui nella lista ho almeno 3 elementi quindi posso andare indietro tranquillo senza rischiare di sforare con degli indici negativi allora a questo punto ho almeno 3 elementi nella lista perché 0 non ne ho 1 non ne ho 2 non ne ho quindi ne avrò almeno 3 se per caso sto andando su una città uguale a quella precedente va bene occhio abbiamo già contato prima le 6 quindi quindi se per caso parziale punto get di parziale punto size meno 1 equals di prova va bene ok quindi ricapitoliamo primo giorno secondo o terzo giorno non posso cambiare giorni successivi posso sempre rimanere e adesso siamo nell'ultimo caso in cui è un giorno successivo i primi 3 ho deciso di non rimanere e di cambiare allora posso farlo solo se il penultimo scusate l'ultimo il penultimo il terzo ultimo elemento sono tutti uguali tra di loro ho deciso di cambiare sto cambiando città e va bene se l'ultimo è uguale al penultimo e il penultimo aspetta eh punto get di parziale punto size meno 2 e stessa cosa tra meno 2 e meno 3 se sono uguali allora è valida altrimenti non è valida che fatica è macchinoso non sono sicuro che sia giusto perché nel fare tutti questi casini magari qualche bacchetto scappa però è limitato questa funzione qua è la prima da debaggare se qualcosa va storto bisogna fare magari qualche prova passando di delle liste di esempio implementa implementa i vincoli quelli hard magari sia il modo più furbo di farlo di sicuro non so un ciclo wild che conta nelle giorni precedenti quanti sono le giornate invece qui l'ho fatto con una serie di casi particolari ma vabbè il primo modo in cui è venuto in mente questo viene chiamato qui allora vediamo un po' se sta cosa funziona semplicemente vedendo che cosa genera io mi metto nel caso terminale una stampa di parziale quindi una sequenza delle 15 città e vediamo che cosa mi genera mi dovrebbe generare tutte sequenze in cui i vincoli sono rispettati oppure mi danno un po' interception e andiamo a debaggare prima di andare a incasinarmi ancora col costo no? allora per riuscire a chiamare questa funzione devo aggiungere un po' di livelli sopra ad esempio la calcola sequenza del modello dovrà chiamare la funzione cerca con una lista parziale inizialmente vuota chiuso un'array list sicuramente non una linked list perché tante volte devo accedere all'ultimo elemento il penultimo il terzo ultimo e una linked list deve essere percorso ogni volta invece l'array list sa esattamente raggiungere l'elemento che mi interessa se provate a mettere linked list vi accorgerete che è decisamente più lento vuota e quindi posso avviare la ricerca passando di questa lista parziale vuota e il livello uguale 0 questo vuole ritornare qualcosa facciamo ritornare un null perché non abbiamo ancora la soluzione perché non la stiamo calcolando e nel controller facciamo solamente in modo di chiamare questo metodo ti devo passare il mese vero caro mio che non ho ancora usato calcolo la sequenza era qua quindi facciamo finta di ottenerlo model punto calcolo la sequenza di questo mese di questo mese m poi manca la parte finale in cui calcolo la soluzione la stampa quindi nel model nel do calcolo la sequenza ci metto la chiamata scusate nel controller do calcolo la sequenza ci metto la chiamata model calcolo la sequenza il quale non farà altro che far partire la ricorsione chiamando cerca sulla carta dovrebbe funzionare vediamo se è così scelgo un mese vabbè un mitare lo sappiamo calcola calcola mi ha stampato sulla console una serie di cose Genova 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 Milano 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 Torino Torino 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 e poi ha fatto altre combinazioni nessun caso vedete che Torino l'ha messo tre volte oppure 4 oppure 5 oppure 6 ha alternato più volte dovrebbe esserci anche vedi tre volte Genova tre volte Milano poi di nuovo Genova poi di nuovo Milano poi di nuovo Torino sembra che siano tutte coerenti tra l'altro non ci sono tutte perché forse all'inizio ne ha tagliate qualcuna ma sembra che siano tutte coerenti con le nostre regole la ricorsione ovviamente inizia mettendo per primo Genova poi tutte quelle che iniziano con Milano poi tutte quelle che iniziano con Torino e le permuta in tutti i modi possibili dimmi ma il fatto di avere alla fine della ricetta una o due città isolate non è considerato il colore non so allora tu stai dicendo il fatto che qua Milano sia da solo viola il il vincolo delle tre città minime allora io come ho interpretato io no perché ho detto posso andare a Milano perché a Genova ci sono stato almeno tre giorni quindi ho interpretato dicendo posso cambiare città solamente se in quella precedente sono stato fermo almeno tre giorni che è la stessa interpretazione no non è vero che no il primo giorno non l'ho interpretato così qui dice non si può spostare prima di aver trascorso tre giorni quindi io il vincolo lo leggo sullo spostamento ok se questa frase poi è anche effettivamente un po' di interpretazione se questa frase fosse in ciascuna città il tecnico deve rimanere almeno tre giorni allora ci sarebbe un vincolo anche sulle ultime tre e questo vincolo dove lo posso verificare beh lo potrei verificare ecco qua Eclipse nel caso terminale nel caso terminale vado a verificare se le ultime tre città sono uguali se non lo butto via è un caso terminale falso ma per come è scritto il testo in cui parla che uno spostamento lo posso fare se sono stato tre giorni in una città allora mi posso spostare se poi è finito il mese è mica colpa mia ok cosa rimane da fare il caso terminale il caso terminale nel quale semplicemente dobbiamo calcolare il costo di una determinata soluzione quindi dovrei calcolare di questa soluzione e chiedermi se il costo è minore del costo della soluzione migliore diciamo della best se sì allora mi salvo la soluzione migliore allora best uguale new array list ricordiamoci dobbiamo fare una deep copy qua sempre non una copia semplicemente riferimento ovviamente al primo giro dovrò controllare cioè devo entrare anche se best null cos'è best è un array list nel quale metterò la soluzione se non l'ho ancora creata la prima volta prendo ciò che mi arriva come prima primo caso terminale se invece ce l'ho già vado a vedere se il costo della nuova soluzione parziale è migliore del costo migliore questa best è una variabile che posso definire qua nel modello e mi cu private private non provide e mi curo che nel chiamante della ricorsione venga messo null per dire ok anche se abbiamo già fatto ricerche precedenti azzeriamo dimentichiamo la soluzione precedente e fammene trovare una nuova e questo best è ciò che possiamo finalmente ritornare al chiamante al controller quindi tutto il nostro lavoro si è ridotto a scrivere questa funzione calcola costo giusto che prende una soluzione qui è chiamata parziale ma è una soluzione completa da 15 elementi sapendo quali sono le città sapendo qual è il mese che ricordiamoci che il mese ce l'abbiamo qui ma non l'abbiamo ancora usato come parametro sapendo quali sono le misurazioni dei rilevamenti del mese nelle tre città mi dice quant'è la temperatura effettiva allora questa funzione la possiamo implementare in dieci modi diversi un primo modo può essere quello di leggere dal database prima tutti i rilevamenti tutti dell'anno e poi andare a spulciare quello del giorno giusto conoscendo il mese oppure leggere dal database solamente i rilevamenti del mese corrente dove li posso memorizzare questi rilevamenti del mese corrente vabbè la classe città aveva già questo insieme rilevamenti che è fatto apposta l'abbiamo pensato apposta se vogliamo usarlo allora in quel caso cosa possiamo fare qui prima di chiamare la cerca visto che riconosciamo il mese interroghiamo il database e diciamo senti per la città numero 1 quali sono i rilevamenti di questo mese? questi schiaffiamoli dentro la città numero 1 e così via informazione che rimane dentro l'oggetto città e quindi calcolo a costo potrà usare quindi questo è un modo forse è più semplice l'altro modo più molto più pesante è che il calcolo a costo vada al database cioè ogni volta che ho una soluzione di questo genere per ognuna di queste righe faccio un acquir al database dicendo dammi un attimo le umidità di questi giorni però capite che fare non so quante sono solo qualche centinaio qua e non sono tantissime sono beh 500 500 query me le potrei anche permettere però fare una query di questo genere è già abbastanza complicata perché mi deve dare tante umidità per ciascuna città quindi devo fare una query con 15 clausole diverse quindi magari non è una buona idea quindi l'idea migliore potrebbe essere leggiti dal database solamente le umidità del mese che ci interessano memorizzarle dentro le città questo qui in calcolo a sequenza e poi dentro il calcolo a costo usarle questo calcolo a costo non farà altro che fare la somma delle umidità delle città più 100 ogni volta che cambia la città dimmi perché calcoliamo il costo quando la città è il tempo che è il tempo di calcolare il costo nel momento di decidere la città allora la domanda è perché calcoliamo il costo solamente nel caso terminale anziché calcolarlo qua allora ti do due risposte la prima risposta in realtà è una domanda cioè a cosa ti servirebbe a calcolarlo qua sapere già qui il costo parziale che ha quella soluzione mi dà dell'informazione che può cambiare quali sono le soluzioni che provo no perché anche se calcolo il costo fa 1312 e beh fa il confronto con cosa? cioè andrei a scegliere la città migliore ma non posso attenzione allora questa è la seconda domanda allora la prima domanda che ti ho fatto è se sapessi già il costo parziale fino a qua dei primi 8 giorni potrei escludere una delle città nel nono giorno? no quindi è un calcolo inutile da fare quello che stai pensando tu è ma se io però sapessi già il costo parziale potrei forse confrontarlo con la soluzione complessiva ed evitare qualche tipo di ricorsione però attenzione che io sapere che il costo parziale dei primi 6 giorni è 300 e il costo totale dei 15 giorni è 2000 non è che mi permette di evitare perché il costo totale che ho è migliore quello che non posso fare è dire ma se il costo della prima prova è 80 e quello della seconda è 85 allora provo solo 80 e l'85 non lo provo neanche questo non lo devo fare perché io non posso una soluzione globalmente ottima non è mai o meglio in generale non è composta facendo tante scelte localmente ottime cioè se ad ogni passo faccio quello che mi costa di meno non è detto che alla fine abbia la soluzione che complessivamente costa meno perché ci sono dei casi in cui magari faccio un passo diciamo così che mi costa un po' di più all'inizio perché alla fine me ne salterà fuori uno magari all'inizio vado a Genova una volta in più perché poi gli ultimi 5 elementi posso mettere Torino e non l'ho sprecato prima tra virgolette quindi non posso mai prevedere il lavoro della ricorsione è proprio questo le genero tutte e poi a posteriori vado a vedere qual è la migliore quello che in realtà si potrebbe fare è di dire se io voglio semplificare il lavoro di questa calcola costo il costo lo posso calcolare incrementalmente man mano che scendo ma allora semplicemente l'ottimizzazione la sommatoria anziché fare tutto in un colpo la faccio un pezzo per volta scendendo la ricorsione e quando arrivo in fondo ho già la sommatoria fatta ma la guardo solo in fondo non la posso usare quel risultato parziale intermedio se non ma non apro questa parentesi sicuramente non oggi con un algoritmo di tipo branch and bound dove ho una stima ottimale maggiore ottimale minore vado a vedere se mi muovo lì dentro ma lì cambia completamente perché vado a puotare l'albero della ricorsione sulla base di criteri di ottimalità qui non lo stiamo ancora facendo quindi alla fine non serve non ci aiuta è un lavoro in più che io cercherò di non fare dentro la ricorsione dentro la chiamata ricorsiva lo faccio alla fine allora direi che il nostro tempo è finito nel senso che non riesco a fare questa implementazione ancora fatemelo solo scrivere come commenti e poi la faccio offline intanto è semplicemente una funzione che fa la query quindi abbiamo detto la scelta che abbiamo ci siamo dati per implementare questa funzione calcola costo è una volta che conosco il mese carica dentro ciascuna delle le città la lista dei rilevamenti nel mese considerato è solo quello ok? quindi faccio tre query in cui calco i tre rilevamenti da città 1 città 2 città 3 in quel mese e il memorizzo dentro città punto sette rilevamenti ti dao punto get rilevamenti città mese una cosa del genere chiaro quello che voglio fare è qua so il mese faccio le query del database mi faccio dare i rilevamenti del mese che mi servono perché sono quelli che serviranno nel calcolo del costo poi nella funzione calcola costo cosa farò? e dovrò fare la sommatoria di tutte le unità in ciascuna città considerando il rilevamento del giorno giusto quindi io farò una cosa in cui prendo un certo elemento parziale punto get di o get di giorno meno 1 per se è giusto quindi vado a prendere la città che svisito in un certo giorno e vado a prendere l'umidità che avevo in quel giorno quindi quella città vado a prendere get rilevamenti e di quel rilevamento vado a prendere quello del giorno quindi per un determinato giorno dico in che città sono e me lo dice parziale data la città vado a prendere l'elenco di rilevamenti di quella città ma di tutti quei rilevamenti che ci sono in tutto il mese vado a prendere quello del giorno in cui sono quindi devo fare la somma di questa cosa e poi a cui sommo 100 per numero di volte in cui cambia città vabbè riuscirò a scrivere ok questa è un'altra funzione imparata con questa antipatica brutta noiosa ma facile alla fine quindi questi problemi sono fatti così c'è una funzione facile bella pulita ordinata ma difficile da scrivere da capire perché lì c'è il ragionamento sulla ricorsione che si appoggia su funzioncini di appoggio che invece si smazzano i dati a basso livello che possono essere più antipatiche perché ci stivano in casi particolari eccetera eccetera vabbè l'importante è tenere ben separato ciò che sto facendo da ciò di cui ho bisogno ok allora io mi fermerai qua vi lascio un attimo di pausa faccio il commit di questa soluzione e poi probabilmente dentro domani o giù di lì andrò ancora avanti aggiungo semplicemente questo pezzo quindi implemento la parte l'unica parte che rimane da scrivere è il DAO perché il resto praticamente viene scritto nei commenti ancora domande? ok facciamo pausa grazie grazie a tutti grazie a tutti